Brown Barone, un avvocato, titolo americano. E la mia compagnia, la compagnia che ho dovuto, diciamo, mettere su per fare il film in America, l'ho chiamata la Barone Film. Presto sentivo Barone, perché c'è già una battuta del Barone nel film. Ecco, una piccola curiosità. Noi italiani dovremmo sfruttare di più il cinema per il turismo. Adesso vi racconto un'altra piccola storia. Quest'anno ho interpretato un film prodotto dagli americani, dalla Summit, la più grande compagnia americana, che ha prodotto New Moon, Twilight, per ragazze. Loro si sono inventati di fare un film nel giardino di Giulietta Verona. E il film si chiama Lettera di Giulietta. Questo c'è. Perché se lo devono inventare loro, non noi italiani? Perché voi sapete che c'è il giardino di Giulietta dove tutti vanno via a mettere la lettera contro il muro. C'è un grande turismo lì. Loro hanno fatto un film su questo, con Amanda Siffredi, che è una giovanatrice che ha fatto, mamma mia, una grande star in America, con me, con Vanessa L. Gray. Questo film, già negli Stati Uniti, che uscirà a maggio, è dal mese di ottobre, che fanno i trailer. In 4.000 cinema. Questo porterà ancora di più il turismo a Verona. Questa è la verità. Ecco. E' una storia che tra l'altro è questa prima, scritta da Marco Valdello e copiata da Shakespeare. Dovevi aver detto bene, eh? Quindi è una storia, quindi quel balcone forse è più facile che c'è a questo nuovo, che non è una Verona. Io tutta volta l'ho parlato all'assessore patronità, l'assessore culturale di Verona, non mi ha sentito, ma adesso, no, va bene, ma non dire questa storia in giro, perché noi ci stiamo costruendo, no, ci stiamo costruendo un'immagine.